Queste sono le nuove Keyland Miura GTX, una scarpa per trekking molto tecnici da utilizzare soprattutto su roccia. Adesso insieme ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Miura, perché qui troviamo una suola Vibram con mescola XS Trek. Una suola che devo dire mi è piaciuta abbastanza, soprattutto per quello che è il grip su roccia. Su roccia tiene veramente bene, anche occia particolarmente unta, non ha nessun problema. Tutto quello che poi naturalmente è sterrato, single track, strade il fondo valle, lì davvero non presenta nessun problema. Dove fatica un pochino è sul fango. Avendo un alto numero di tasselli per far sì che tenga su roccia ed avendo dei tasselli neanche troppo alti, ecco che su fango si tende abbastanza a scivolare. Non è sicuramente una scarpa magari da utilizzare su dei terreni particolarmente morbidi. Aspetto poi, sempre ottimo per questo tipo di suola, è che questa corre d'attacco a punta è che essendo un unico blocco sarà molto più semplice farla risuolare quando avremo finito di utilizzarla. Passando al comparto dell'intersuola, qui troviamo un'intersuola a doppia densità in eva. Un'intersuola che devo dire ci dà un ottimo supporto, soprattutto perché la scalzatura è semirigida, quindi si riesce a lavorare molto bene, soprattutto di punta. È un'intersuola che ci dà anche un ottimo cushioning. Diciamo che da questo punto di vista è una scarpa che andrei a utilizzare per dei trekking mediamente lunghi. Quando stiamo fuori 6-7 ore non è un problema, però magari eviterei di andare sopra le 10 ore di trekking in un singolo giorno, perché comunque l'altezza dell'intersuola non è così elevato. Dal punto di vista poi delle performance, bisogna dire che quando andiamo veramente su roccia, la scarpa lavora molto bene. Si riesce a lavorare molto bene di punta, si riesce a lavorare anche abbastanza bene a spalmo. In generale comunque devo dire, un'intersuola secondo me è molto ben costruito. Soprattutto poi con questa bidensità è stato fatto in modo che si abbia la densità giusta nel punto in cui ricade l'intersuola. Quindi sicuramente un'ingegnerizzazione fatta molto bene da parte di Keyland. Arrivando alla parte superiore, questa è quella che probabilmente mi è piaciuta di più, perché iniziamo dal puntale che è un puntale veramente molto rigido. Un puntale che se anche prendete a calci una roccia non sentirete alcun dolore. Tutta la parte di Tomaya poi è praticamente divisa in due. Nella parte inferiore troviamo un classico fascione che fa sì che ci protegga sia il piede da eventuali urti con delle rocce, comunque qualcosa che trovano sul sentiero, sia che protegga anche la Tomaya stessa da eventuali strappi. E la parte superiore invece è fatta in pelle scamosciata. Una pelle molto classica, una pelle che sicuramente le darà anche modo di essere abbastanza duratura nel tempo, una pelle che dal punto di vista della traspirabilità è abbastanza nella media, non eccelle sicuramente questa miura per la sua traspirabilità. In compenso però troviamo una membrana Gore-Tex per quanto riguarda l'impermeabilità che lavora molto bene da questo punto di vista. Se dovessimo passare qualche ruscello sicuramente non sarà un problema. Arrivando alla zona del tallone, questo è abbastanza classico, molto ben imbottito, un tallone che fa sì che la scarpa sia abbastanza stabile, anche perché comunque abbiamo un'intersola che non è eccessivamente alto. Quindi da questo punto di vista, anche se dobbiamo fare delle scese particolarmente tecniche, non sarà sicuramente un problema. Altro aspetto poi che mi è piaciuto molto di questa miura è la sua allacciatura, perché troviamo un'allacciatura che corre praticamente fino alla punta della scarpa. Un'allacciatura che ci permette di poter stringere molto bene la calzatura attorno al nostro piede e queste miura tenderanno a calzare praticamente come un calzino, cioè come una seconda pelle, perché veramente questo si sente soprattutto quando si va sul tecnico. La scarpa è molto fasciante e ci dà un ottimo feeling. Altro aspetto positivo è la linguetta, che è una linguetta a soffietto, quindi molto stretta, una linguetta che fa sì che avremo un ottimo comfort e un'ottima sensazione quando andiamo appunto sul tecnico. Anche da questo punto di vista la linguetta completa un comparto superiore veramente fatto bene. A livello di spazio in avampiede possiamo dire che sono delle scarpe abbastanza normali. Non è né troppo larga né troppo stretta, è una calzatura abbastanza classica. Io ho preso il mio classico numero di Kayland e non ho avuto bisogno di prendere mezza taglia in più o in meno. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste Kayland miura e dove utilizzarle. A chi le consiglio diciamo un utente medio esperto. Non tanto perché la calzatura abbia dei problemi, cioè non è che se siete principianti non possiate utilizzarle. Più che altro che sono delle calzature pensate appunto per dei trekking molto tecnici, per le vie ferrate. Quasi più si può vedere con una scarpa d'avvicinamento un pochino più orientata al trekking però. Ecco che magari di solito su un terreno di quel tipo un principiante si avventura meno. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Kayland miura. Iniziamo dal prezzo perché Kayland le vende su 160€ sul sito ufficiale. O lì si trova tranquillamente a qualcosa meno. Io le consiglio sì perché comunque parliamo anche di una scarpa da 460g taglia 42 uomo. Una scarpa dal prezzo neanche troppo eccessivo visto i prezzi che si stanno alzando ultimamente negli anni. In generale una scarpa, devo dire, fatta bene, che mi è piaciuta dagli ottimi materiali, risuolabile e che quindi sicuramente ci durerà anche a lungo del tempo. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente esaurito anche per questa recensione. Vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!